Ciao ragazzi bentornati sul canale bentornati su world of warships come sempre prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirmi su instagram link nella descrizione del video Oggi andremo a vedere il cacciator peniere francese avete capito molto bene ho iniziato a sbloccarli e sono arrivato già al massimo di quello che si può sbloccare ovvero il livello 8 oggi però andremo a vedere il livello 7 il vacuelin spero che la pronuncia sia un tantino corretta perchè non sono francese scusate tanto Andiamo a vedere le sue caratteristiche considerando che non abbiamo il capitano perchè è già sul livello 8 abbiamo 18.100 punti per quanto riguarda la vita base cannoni devastanti da 139 tempo di ricarica 5 secondi danno HE 2000 danno AP 2600 portata a 13 km abbiamo una probabilità incendio pari al 9% Siluri i siluri sono molto interessanti per il ruolo che va a svolgere questo cacciator peniere davvero molto molto rapido abbiamo un tempo di ricarica di 90 secondi un danno quasi pari a 15.000 a velocità 68 portata a 8 km Cosa molto interessante dei siluri vengono spottati a 1.4 quindi non è neanche tantissimo rispetto a quello che potevo immaginare all'inizio difesa contro aerea fantastica abbiamo 10 velocità massima 37.8 tramite la bandiera Sierra Mike che ovviamente potrà essere aumentata tramite la sovralimentazione del 20% Abbiamo poi il tasto T che è di mezza la particolarità delle navi francesi il tempo di ricarica dei cannoni principali quindi anziché 5 secondi spariamo in 2.5 Verremo spottati a 7.3 e a 3.5 da qualsiasi aereo nemico il comandante è questo qui però al momento non è ancora le 19 i 19 punti e spero comunque di riuscire a prendere il comandante unico francese perché davvero molto molto buono Ragazzi questo è il comandante la nave l'abbiamo vista ci manca solo il gameplay andiamo in partita E allora eccoci con il cacciatorpediniere francese come vedete la vita è salita a 20.550 tramite la skill del comandante abbiamo varie bandiere economiche Le Jolly Roger abbiamo anzi no le Jolly Roger sono due e qualche bandiera da combattimento La Sierra Mike io la metto sempre su tutte le navi però in particolar modo sui cacciatorpediniere francesi diventa importantissima non si può veramente levare Il matchmaking propone delle navi tutto sommato abbordabili abbiamo navi fino a livello 7 nessun livello 9 E' una nave che ovviamente devo ancora imparare ad utilizzare nel migliore dei modi però ho già capito il ruolo che deve svolgere Le situazioni in cui si può mettere è un nuovo gameplay al quale non ero abituato se devo essere sincero Perché con la Shimakaze sta invisibile i lanci siluri con la 52 utilizzi la hydro con le altre navi ci sono altre tattiche Mentre con questa qui si basa il 99% sulla posizione e sulla velocità e i siluri come dicevo ero un po' scettico all'inizio perché pensavo Vabbè dai 8 km sono pochi abbiamo uno scarto di 1,40 km dallo spotting di questa nave quindi non è tantissimo Considerando poi la manovrabilità i nemici eccetera eccetera devo giocare sull'1,40 Ciò nonostante i siluri mi hanno garantito ma la ok la visuale è questa qui perché guardavo sempre avanti Bravo giro un po' la telecamera facciamo vedere un po' a sinistra Dicevo mi hanno garantito anche colpi devastanti prime kill perché vengono lanciati ovviamente in maniera del tutto preventiva Cercando tramite la velocità e il posizionamento di colpire l'eventuale nemico che va a cappare perché magari è un giapponese Quindi ha una rilevabilità molto bassa e quindi si pensa di essere al sicuro però in realtà arrivano i siluri di devi che ti fregano Come vedete anche in questa circostanza ho provato a lanciare in maniera preventiva cosa significa Lo diciamo ai nuovi giocatori ai nuovi iscritti vuol dire che io sto morendo con il naso però oltre a quello Vuol dire che noi appena arriviamo nel capo nei pressi del capo che è più corretto così dire Lanciamo in maniera preventiva i siluri pur non vedendo la nave perché andiamo come dire a cercare di colpire il nemico Pur non vedendolo però noi sappiamo che sta là dentro quindi è una specie di tiro della fortuna chiamatelo come volete Qua vedete cosa succede attivo il tasto magico 1638 1638 vediamo se entra la cittadella ecco appunto Entrata la cittadella una cittadella sul caccio sull'incrociatore qui si invertono i ruoli Il Konigsberg è un incrociatore di livello 5 siamo d'accordo quindi ho un vantaggio di due livelli rispetto a quella nave Però vi posso assicurare che le cittadelle entrano sia contro le navi di livello 5 di livello 6 di livello 7 di livello E le cittadelle entrano quindi poteva essere anche un'altra nave non è questo il concetto Il concetto è che stiamo facendo malissimo all'incrociatore tedesco Un'altra cosa che devo imparare ma alla fine ci ho giocato poco con queste navi Devo imparare ovviamente a cercare di risparmiare quanti più punti vita possibili Ecco qua poi mi viene presa la kill la minecazza e sparo un colpo e me lo frega Vabbè a parte questa cosa qui il lavoro l'ho fatto io 18.000 punti fatti su quel Konigsberg In questo scontro ho perso circa 8.000 punti vita Ripeto devo migliorare tantissimo questo scontro iniziale Perché ovviamente più punti risparmiati a inizio partita più potete continuare a dire la vostra contro le altre navi Se perdete tutti i punti all'inizio siete fuori combattimento Quindi ripeto ancora una volta è una cosa da rivedere 100 volte I lanci preventivi dove pensiamo che il nemico sia e quindi noi andiamo a lanciare i siluri Sono molto molto importanti quindi queste due cose unite alla velocità Tre cose sono molto molto importanti E' anche vero che i siluri possiamo utilizzarli come un normale caccia torpediniere Nel senso prendiamo la posizione e poi lanciamo i siluri nei confronti della corazzata Ancora una volta il tasto magico ci consente di sparare ogni 5 Sì ogni 5 secondi ogni 2.5 secondi e sono danni molto importanti quando lo andiamo a beccare Che il caccia torpediniere va a subire Voi immaginate con molto allenamento quanti danni potete fare ai caccia torpediniere nemici con questi cannoni spettacolari Sono ancora abituato nell'utilizzo delle HE però come avete visto le AP fanno molto molto male Poi bisogna capire in quale circostanza ovviamente possono rendere di più rispetto alle HE Andiamo a fare una virata abbastanza secca per evitare i colpi della Sharnost La Sharnost è una nave che conosco a memoria Ha cannoni molto pericolosi E' una nave molto agile Ha delle armi secondarie qualora fullate Molto pericolose Ha i siluri Insomma è una nave con il quale non bisogna assolutamente scherzare E qui faccio subito una nota negativa Perché i siluri che sto lanciando in questo istante Dovevo assolutamente andare a prevedere che la Sharnost Stava avanzando Stava avanzando Io sono completamente arrabbiato Perché quei siluri dovevano essere lanciati più a sinistra Solo in quel caso avrei potuto colpire la Sharnost Una cosa negativa che sta succedendo E che noto terribilmente E che la squadra soffre tantissimo Abbiamo preso solo il punto di cap iniziale Qui secondo me la Minekaze Dopo aver visto che quella nave era stata distrutta La Kazuki se ricordo bene Era una Kazuki Doveva andare a prendere il cap Non lasciare comunque sia quel ruolo Perché i punti stanno aumentando 335 a 527 per loro Stiamo perdendo molto molto male Andiamo qui ad attivare Ancora una volta La nostra cadenza di fuoco Per cercare di mettere in difficoltà Una corazzata che è davvero pericolosissima Come vedete sta sparando con le armi secondarie Al cacciatore peniere E adesso sta puntando Il nostro incrociatore sul settore Di alfa Arriva poi a supporto anche L'altro cacciatore peniere Però qui veramente stavo cercando L'incendio perché la corazzata Bisogna distruggerla Assolutamente Vedete che qui vado ancora con Le HE che Comunque propongono un buon 1320 con vari danni 1320 Aggiustando la mira Si può fare molto molto di più L'incrociatore manca la kill Sulla corazzata Ecco perché stavo sparando Alla corazzata Perché non mi fidavo assolutamente Di lasciare nelle mani Di quel giocatore L'onere di distruggere Lasciarlo Se infatti poi la vado a chiudere io Già ero partito Con l'idea che toccava a me Perché ero sicuro che avrebbe falito Non per qualcosa però E si vedeva Da tante cose Che non ce l'avrebbe mai fatta Siamo saliti a due kill Uno svantaggio davvero Molto importante E cosa Che dobbiamo fare assolutamente È distruggere il cacciador peniniere Che sta davanti a noi Sul settore di destra La nostra squadra sta perdendo Sta perdendo E la cosa che non capisco È che Era tutta la squadra Su quel settore Settore alfa charlie Non riescono assolutamente A fare una kill Siamo Nella difficoltà più assoluta La mini kaza Ancora una volta Scorda il suo ruolo Di andare a cappare Il punto di cap Qui vabbè Manco l'aggancio Con la kill Molto Negativa come cosa Siamo saliti a tre kill La mini kaza Lo ripeto Per l'ultima volta Doveva a cappare Inizialmente Bravo All'inizio proprio E poi dopo il settore D Non ha senso andare Tutti e due Sul settore Perché siamo 300 A 680 E non è che Uno non può fare Il ragionamento Vabbè devi Dai Va a cappare Adesso No Doveva andare prima Perché tu finché Arrivi da bravo a di Ci metti già Un minuto Di tempo E quindi Finché i cappi Passano due minuti E nel frattempo I nemici ovviamente Ne approfittano Dovete fare i conti Con le tempistiche Del gioco E del viaggio Perché non è che Ti teletrasporti Sul punto di cappi Devi pur sempre Arrivarci Con tutti I pericoli Che possono esserci Ehm Il ramo Mi piace Mi piace E spero Che venga Aggiunta Il prima Possibile Anche Vengano aggiunte Il prima possibile I navi Rimanenti Qui devo essere Sincero Ero stato Leggermente Distratto In questa circostanza Infatti Vado a Sì fare Le cittadelle Come vedete Sono cittadelle Che entrano Sul Sull'incrociatore Non so per quale motivo Vado a fare Questo lancio Molto Molto Brutto Infatti Non riesco a chiudere Inizialmente Il duca Da osta Poi fortunatamente Con le ap E con la velocità Riesco a sfuggire Dall'incrociatore Nemico Ripeto Ero stato Distratto Proprio in quel momento Perché altrimenti Vi assicuro Che lo avrei chiuso Prima Con i siluri Infatti Si è visto Per un momento Che i siluri Venivano addirittura Aperti E poi richiusi Diciamo La distanza Da un siluro Siluro Rispetto all'altro Siluro è bellissimo Siamo saliti a 4 kill Cosa significa Siamo 5 contro 5 Ragazzi La possiamo vincere Abbiamo la queen Full vita Abbiamo una corazzata Che arriva da bravo Abbiamo la minekaz Che ovviamente Può fare il suo ruolo Di ninja E quindi Stiamo cappando di Cosa che Adesso I nemici Farebbero fatica A recuperare Perché hanno un solo Caccia d'orpeniere Veramente Le condizioni Per la vittoria Ci sono tutte Dobbiamo ovviamente Mantenere la calma Perché la partita Non è assolutamente finita Una cosa molto importante E non fare La new york Loro ha 15.000 punti vita C'è 15.000 Contro una queen Che ne ha 40.000 Contro un incrociatore Però io già lo vedo Guardate la posizione Della queen Perde i primi 13.000 punti Perché mostra Completamente Il lato Alla corazzata Che ovviamente Se ne approfitta E fa malissimo Io purtroppo Non ho tanti punti vita Da sparare Perché ovviamente C'è sempre il cacciatore Per il nere nemico Lui ancora perde Punti vita Io veramente Qui volevo Volevo morire Volevo morire Perché non ci Ho detto Rammalo L'ho scritto anche in chat A questo punto Rammalo Neanche il ram Neanche il ram Una new york 15.000 Contro una queen Un livello superiore 40.000 La nostra queen Perde Eh ma devi C'era anche la dunker Dietro E l'incrociatore A questo punto Rammalo Se sai che sei In inferiorità numerica Porta una nava a casa E rammalo Perché non lo hai fatto Qui chiedo il fumo La prima volta che io chiedo il fumo In vita mia Nessuno che mi calcola Probabilmente non lo aveva attivo Non lo so Poteva scriverlo in chat In un momento così importante Della partita Se avesse messo il fumo Qui sicuramente Potevo cittadellare L'incrociatore Decido di andare A sparare Però ormai Se devo essere sincero La concentrazione Era totalmente Andata Infatti Mi vado a schiantare In malo modo E vado a concludere Una prestazione Che sinceramente Fino a questo momento Non mi era dispiaciuta Per nulla Non mi era dispiaciuta Per nulla Qui ovviamente tornare invisibile Risulta impossibile Perché devo aspettare I famosi 20 secondi Dopo l'ultimo sparo E quindi I nemici hanno tutto il tempo Per prendere la mira E distruggermi La domanda è Perché l'Iron Duke Si è mangiata 800 siluri Perché la Minekaze Non ha messo il fumo Ha messo che Lo aveva disponibile Perché Il L'affuso Rimane così lontana Perché stiamo perdendo Una partita Che avevamo recuperato Prima di entrare Dentro il settore Di Charlie L'avevamo recuperata Comunque sia Abbiamo fatto 5 kill Questa è la cosa L'unica nota positiva Poi vabbè La loro Mutsu Full vita In quel settore Faccio finta neanche Di vederla Perché Veramente Stop Ragazzi A questo punto Andiamo a vedere I risultati Posto scontro Cosa vanno a dire Sì tranquilli La partita viene persa Perché secondo voi Loro riescono a gestire Nella maniera più assoluta Risultati posto scontro Mi sento quasi colpevole Della sconfitta Perché mi sono Schiantato Ciò nonostante Ragazzi Il video è terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti E le visualizzazioni E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti